Mister, successo primato in classifica, consolidato, porta in violata, ma non è stato tutto così facile, così semplice? No, non è stato assolutamente facile, perché la prima parte di gara penso che abbiamo giocato male, ma soprattutto merito della squadra avversaria, perché è una squadra che temevamo, la conosciamo bene, visto che l'abbiamo affrontato qualche giorno fa in Coppa Italia. Però poi nel secondo tempo ci siamo un attimino riorganizzati, abbiamo giocato meglio e poi è stato facile dopo che abbiamo sbloccato la gara, ma fino a quel momento è stata una partita difficile, soprattutto per merito a loro e dei ragazzi avversari. Da parte vostra, soprattutto nei minuti iniziali, forse la squadra è entrata in campo troppo molle? Ma anche, anche quello, quindi poi rispetto alle altre tre gare di campionato abbiamo giocato con quattro elementi in meno, quindi per via degli infortuni, e quindi diciamo abbiamo giocato in maniera completamente diversa, non avevamo le giuste misure, la giusta organizzazione in campo. Poi alla fine, ripeto, tutto è stato facile dopo il primo gol, ma fino a quel momento è stata una partita difficile, però noi siamo contenti di questi tre punti, non guardiamo in alto perché credo che le prime posizioni non ci competono. Noi facciamo il nostro campionato sperando di fare un campionato medio-alto per poterci dogliere qualche soddisfazione con i giovani. Negli spazi gli attaccanti vostri, Fraraccio e i fratelli Berardi, comunque sono andati a nozze? Eh sì, loro negli spazi vanno a nozze, sono bravi, sono rapidi, sono tecnici, sono bravi nell'uno contro uno, ecco, in quattro caso è proprio in quel momento che Thomas ha vinto un dribbling in mezzo al campo, ha fatto un gol decisamente bello, poi anche Manuel ha fatto una sponda di testa su Christian, e infine siamo contenti che ha segnato il ragazzetto 2004, che è la soddisfazione della giornata. I punti comunque danno maggiore e sempre più autostima alla squadra? Sì, danno maggiore autostima, dispiace soltanto degli infortuni, oggi anche Daniele dopo qualche minuto ha abbandonato il terreno di gioco per l'ennesimo infortunio, ecco, ma è stato bravo anche il ragazzetto De Vincenzo a sostituirlo, Ivan è entrato bene in campo, di Fedda, siamo contenti, ecco, in questo momento sembra che va tutto bene e bisogna essere contenti, poi arriveranno momenti meno belli e dobbiamo lottare lo stesso e essere in maniera tranquilla. Grazie a tutti.